Buonasera campesinos e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ricky Farmer e vi dà benvenuto in questo nuovo tutorial sul mio canale. Per quanto iniziare come è stato ricordo di iscrivervi al canale, lasciarmi un mi piace, condividere il video, scrivermi su Instagram, Facebook e Twitch, tutti i link utili li trovate in descrizione. Vi ricordo anche di comprare Farming Simulator 22 dal link sempre in descrizione oppure utilizzarmi il codice partner, Ricky Farmer, tutto maiuscolo e tutto attaccato ovviamente. Inoltre vi ricordo anche di che si può comprare Farming Simulator già a scontato e Season Pass da Instant Gaming, il link è in descrizione di Instant Gaming e poi voi cercate Farming Simulator e vi comprare. Allora oggi siamo qui, sono qui per portarvi questo secondo e penso ultimo tutorial. Uno è stato come inserire le canzoni su Farming Simulator, questo sarà come togliere gli ad, ovvero le scritte, dopo vi mostro cosa. Comunque magari poi già sapete come cosa sono questi ad, comunque la mappa, l'ora, il tempo, i soldi che avete, ok? E anche il pallino in centro per poter fare eventualmente delle screen decenti, belle e poi belle dipende anche da tante cose, ad esempio anche dal computer se riesce a supportare Farming, a giocare a quella età alta. Comunque insomma, voi togliete gli ad, sicuramente escono screen migliori rispetto a farli o con gli ad o direttore col telefono, anche mentre col telefono non si possono vedere. Beh, piuttosto non fatele. Allora, in descrizione vi lascio il link per scaricarlo, appunto è una mod praticamente, che non si trova sul mod hub, bensì su un sito esterno. Eccolo qua, si chiama FarmingSingle22Mods.com e vedete qui c'è Woodhider1 versione 1.0.FS22, voi andate qui, fate download, vi aprirà quest'altra finestra, free download e poi tutte che si carichi, poi fate download file e vi parte il download. Ovviamente una volta fatto, dovete prendere la cartella, andare in my games, ecco qua, my games, FarmingSingle22Mods e meter acquired, che c'è già Woodhider. Boh, una volta fatto ciò, non dovrete nient'altro che, intanto posso chiudere tutto quanto, aprire il gioco, ok, io avvio già il gioco, e una volta entrati in partita, con i seguenti tasti ALT, H, potrete togliere tutto quello che mi dà fastidio, se vi volete. Andiamo qua nella Handcrick, se c'è questa cosa qui, vuol dire che avete già inserita. Altro modo molto molto utile è la Player Camera, che magari vi lascerò il link anche in descrizione per scaricarla, così da poter ingrandire. Poi vi mostro bene, comunque, Woodhider e Player Camera sono le mode necessarie per fare delle screen, non dico, decenti, però buone, insomma, magari puoi mettere a fuoco solo il mezzo, con la Player Camera, poi togli gli add, quindi hai una screen pulita, senza creare grafiche in giro, potete mettere il vostro logo, basso a destra, basso a sinistra, dipende come un'altra destra, un'altra sinistra, dipende da tante cose. Però comunque è pulita senza ora, tempo e soldi che avete. Allora, noi facciamo inizia. Allora, come vedete, adesso io prendo in mezzo a caso questo qui, con la Player Camera, vedete, posso alzarmi e abbassarmi con la rotella del mouse, mentre tenendo premuto il tasto destro del mouse e la rotella, vedete che si ingrandisce, cioè si ingrandisce, vado a farmi più vicino al John Deere. Ecco, andate su e giù, per tornare a normali basta che voi cliccate, tasto destro e premete la rotella, la premete proprio, sentite il rumore. Ok, io la premo e torna anche, eh, ok, se la premete senza tenere premuto il tasto destro, vi torna a altezza normale, vedete, alto, altezza normale, normale. Lo dieder, praticamente, allora, voi cliccate Alt-H, vedete, si tolgono gli add, avete uno schermo pulito, volete fare una screen di questo John Deere, per esempio, vedete qui, ingrandite, che si veda bene, vi abbassate, anzi no, abbassate così, è un po' passata, non è il massimo, onestamente. Io le prediligo molto più per così, altezza, altezza uomo, insomma, altezza normale, ecco, o così, o magari un po' più giù, un po' più su, ecco, vedi un po' dall'alto, molto molto meglio, secondo me, poi comunque su gusti personali, io, a me piacciono più così, onestamente, poi ad altri possono piacere in altre maniere, ecco. Quindi, insomma, questo è quanto, un tutorial molto molto breve, molto molto easy, solo per spiegarvi come si fa per avere, per, appunto, fare delle screen decenti, senza, senza add, appunto, che se ti costi costano gli add, vedete, tac, tac, lo rimuovete così, nel massimo, così, molto molto meglio, secondo me. Ovviamente, per le camera ingrandite, volete fare, vedere un particolare dettaglio, boh, vedete qua così, fate uno screen di questo, così, esempio, e fare solo il John Deere, boh, anzi no, non si può, così, poi, poi tagli in mezzo, dovete mettervi così, tac, screen solo del John Deere, un po' più, 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 così, ovviamente, se siete anche alle luce del sole, contro, contro luce, così, è meglio, perché, vedete, i colori sono più accesi, è meglio, anche visivamente, è molto, molto meglio, rispetto a vederli, un po' più scuri, secondo me, i colori, poi, quando vi arriveranno le shader, eventualmente, potrò portarvi un tutorial, di come inserire le shader, su Farming Simulator 2022, ditemi con un commento, se volete, anche quel tutorial, in caso, e, niente, ragazzi, questo è quanto, cioè, il tutorial è molto, molto veloce, non, niente di complicato, penso, e, l'importante, è, appunto, seguire questi passaggi, scaricare la mode, che non è, dal modab, quindi, potranno farlo, momentaneamente, solo quelli di, pc, non console, quando uscirà, anche sul modab, allora, potranno, potranno scaricarla, anche il di, console, in teoria, e potranno, anche loro, togliere gli ad, a meno che non si possa già fare, alzare le mani, questo, non lo so, ovviamente, se vuoi, oltre a questo, ad esempio, la mappa, col tasto 9, potete rimuoverla, a fine, il, l'udider, serve solo per rimuovere il pallino, e la parte, in alto, lì, a destra, praticamente, con, c'è, il sole, il mese, l'ora, e, i soldi che abbiamo, per il resto, si possono togliere, tutti quanti, tipo, eh, questo qua, la varia di comandi, con l'f1, la rimuovo, eh, appunto, col tasto 9, rimuovo la mappa, principalmente, per rimuovere queste due piccole cose, poi, anche, la, per quanto riguarda, se, quando siete su un campo, e, c'è, eh, la propria proprietà, c'è quello che volete, insomma, ecco, ecco, mi mostro, ecco, l'informazione sul campo, potete anche disabilitarle, perché, se io, io, vado qua, mini fuori, informazione sul campo, posseduto da, fertilizzate, erbacce, calceviva, ritrovo la richiesta, se, io, faccio, contro, vedete, io, sono sopra, faccio, contro, l'h, scompare tutto, ovviamente, però, se uno vuole rimuoverlo, può farlo dalle impostazioni, avete, questa parte qui, informazione sul campo, mettete, no, e siete a posto, e, finestra di video è uguale, eh, l'f1, ecco, un f1 è più rapida, se no potete farlo anche qui, vedete, no, sì, c'è, l'f1 la rimuovo, niente di che, tutto qua, quindi, ragazzi, anche per questo, breve tutorial, chiamiamolo così, è tutto, io, mi ringrazio per la visione, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciarmi un mi piace, condividere il video, seguimi su Instagram, Facebook e Twitch, mi ricomando, importantissimo, acquistare Farming Simulator, dal link in descrizione, un po' di utilità, il mio codice parte, Enrique Farmer, tutto maiuscolo, e tutto attaccato, e da inserire, appunto, nel momento in cui andrete, 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 sì, andrete a comprare, Farming Simulator 2022, e, i video sulle serie inizieranno, settimana, siamo la prossima, inizieranno, io spero che il prima possibile, mi arrivi l'ultimo componente del computer, appunto, che è il processore, dio di dio, e poi posso andare da nick, me lo monta, e poi si può iniziare a fare live, video di serie, con una qualità maggiore, perché a me fa schifo, onestamente, fare i video così, ecco perché, non ne porto tantissimi, durante la settimana, delle serie, perché veramente, mi fa schifo giocare così, sarà che se sarò stato abituato, con FS19, che giocava una qualità decente, però qui veramente, anche visivamente, guardate ora, io faccio così, non si vede bene, come, poteva essere sul 19, poi va anche un po' a scattini, e tempo tutto, quando, sfocato, senza dettagli, quasi non tutti ben definiti, magari potrò giocare, qualcosa con le impostazioni, vediamo se riesco a fare qualcosa di meglio, intanto, e niente, il massimo si giocherà così, ecco, settimana prossima, inizieranno, inizieranno, già iniziate, però continueranno le due serie, ovvero la, Welcome to Amicreek, e le tele francesi, con le due grafiche, del nome delle serie nuove, fatte da Andrea, che ringrazio, in pubblico, e ragazzi, noi ci becchiamo prossimamente, con un nuovo video, ed è di che famere tutto, da Amicreek, è tutto, see you soon, bye farmers! Farmers!